abbiamo avuto molta fortuna per il fatto che siamo all'alba quindi tutti i negozietti erano chiusi ma o conosci bene la medina oppure se segui il navigatore non ce la fai non cammini ok direzione guarda salte ci vediamo tra poco uffa siamo fermi in un'area di servizio uffa il col duticca è chiuso for snow 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 la snow e la neve l'ho capito che la neve siamo svegliati alle 4 del mattino ci siamo districcati nelle viuzze della medina con l'auto per riuscire a giocare bene col tempo perché il problema non è tanto che il colleccio il varco è chiuso perché sappiamo che riapre perché attorno a noi è pieno di macchine che stanno attendendo quindi le persone che sono qua sanno che riaprono il varco il problema è quando allora in questo momento sono le 6 e 20 del mattino e abbiamo un tempo massimo di arrivo a Merzougat per le ore 16 quindi 9 ore ma quanto se non è che abbiamo 9 ore e 40 minuti con una strada davanti che impegnerà almeno sette ore e mezza quindi il piano b che però non vogliamo prendere in considerazione ma non vogliamo prendere in considerazione è quello di fermarci a warzazat esatto che dormiamo proprio a warzazat anche perché abbiamo mollato la camera a marrakesh questa è un'altra cosa quindi noi questa sera non sappiamo dove dormire chiederemo al primo incappucciato che passa io queste avventure le adoro io penso che una delle cose più belle dei viaggi on the road siano proprio queste 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 cose che capitano che ti fanno vivere tutto ancora in modo più più forte più intenso più più bello non è che proprio proprio debba andare sempre così e se il passo era aperto era meglio comunque il nostro gioco di alzarci presto per ora non è servito tanto se non guardare questa splendida aria di servizio nella periferia di marrakesh diciamo così l'abbiamo finita così e le ore passano continua la nostra odissea siamo ancora in macchina ci sono ormai 10.000 persone che aspettano di poter passare l'ora si sta facendo tardo quindi stiamo ipotizzando più il piano b ha fatto una neve incredibile abbondante da qua riesco a vedere il monte in fondo ed è completamente innevato allora piccolo cambio di programma abbiamo deciso già che il barco ancora è chiuso a poter passare di ritornare a marrakesh e di vedere almeno i giardini maggiolari quindi è sopato facendo i biglietti adesso entriamo però prima di entrare comunque facciamo fare una telefonata per capire se è aperto il barco o comunque se c'è novità perché se ci sono novità noi da qui subito ritorniamo la e poi partiamo ma quanto è bello questo giardino si è spettacolare e veramente ne potevamo trovare alternativa migliore per attendere è stato acquistato da Yves Saint Laurent davvero è stato realizzato da Marjorelle quanto è costato il biglietto 70 dirham quindi circa 7 euro a persona abbiamo adesso lasciato la mattina in un parcheggio che è vicino alla piazza Gemmaele Pnau amore mia perché tu non sei marocchino e crusca io che sono marocchino esatto ci lasciamo alle nostre spalle la bellissima Qtubia poi becchiamo qualcuno che chieda se il passo è aperto perché stiamo usando questa tecnica per avere un'informazione accurata perché questa mattina ai giardini uno dei tipi lì di guardia ci ha mostrato anche le foto del traffico che intanto era ripreso nel il passo è aperto aperto wow partiamo poi per sicurezza abbiamo fatto chiamare la gendarmeria del e quindi chiamando hanno chiaramente detto che è ancora chiuso pertanto di tanto in tanto chiamiamo facciamo chiamare in maniera che così parlino scopriamo tra di loro e scopriamo se si e lo aprono questo passo ben detto insomma dobbiamo riuscirci dobbiamo riuscirci qua è sempre pieno di carrozze e cavalli vedrete che sono gioco bellini e adesso stiamo come vedete dirigendoci nella piazza è una meraviglia come colori vero? molto ci sono spezie i vestiti che io personalmente adoro fatta in pazzichia e qua lo vedrete i tini sì ma ho trovato delle cose che sono troppo belle troppo belle e affari stranamente siamo riusciti a trovare dei vestiti che sono meravigliosi e con un costo molto basso puoi vedere le buste dello shopping? eccola qua e sono talmente belli questi succhi che ti perdi veramente ci sono casticini tutte specialità che belli sono anche molto belli da vedere sono buonissimi mi vuoi assaggiare? stiamo uscendo da Marrakesh stiamo andando verso nuovamente il passo perché adesso l'hanno aperto sono le 4 e mezza stiamo percorrendo la strada per arrivare almeno a Guarzazate abbiamo chiamato il camp di Merzuda cosa ci ho detto? che anche se volessimo farlo anche qualora arrivassimo intorno alle 11 mezzanotte ci sarebbe qualcuno che ci viene a prendere non sappiamo se la nostra pazia ci porterebbe a farlo significa che avremo davanti 8 ore di strada in pieno nulla il problema è realmente la luce notturna perché se ci fosse la luna e il cielo sereno avremo anche illuminazione abbondante per arrivare in questo momento il cielo è coperto quindi non sappiamo nella valle di là dell'Atlante nella parte di là dell'Atlante come è la situazione l'idea è questa come scendiamo dalla plante decidiamo decidiamo il livello di stanchezza il livello di luce capiamo se ce la sentiamo se vediamo che ce la sentiamo proseguiamo si vede in lontananza la neve il cielo da quello che potete notare non è dei migliori guardate la neve guanta anzi siamo ancora nella parte bassa guardate i camion quelli fanno in altezza si continua il percorso la neve qua aumenta qui c'è un pochino più di coda perché ci sono più camion guardate ragazzi che neve non avremmo pensato e stanno divischiando la neve aumenta siamo sempre nella parte più alta qui ci sono gli spalaneve penso che siamo ormai vicini al passo perché o dietro questa montagna ce n'è una ancora più alta oppure forse il passo è a 7000 metri no il passo è a 2260 metri ma per arrivare bisogna fare 500 milioni di chilometri in montagna allora il passo l'abbiamo superato si anche con 30 minuti di anticipo rispetto alle previsioni di cui ci fa parzialmente gioire come siamo usciti da la parte più alta qui c'è un sole che spacca le pietre questo è molto buono perché guardate guardate si può far vedere lì in alto le nuvole si sono incastrate lì sull'Atlante mentre se guardiamo qua adesso siamo a vedere la montagna ma il cielo è azzurro 14 ore che siamo svegli certo che non ci auguravamo di trovare la neve passo chiuso eccetera no ma l'idea di poter raggiungere questo campo nel deserto anche se in piena notte ma l'idea di riuscire nonostante le avversità ad arrivare si chiama sfida è la sfida è quello che ci anima è quello che ci mette in gioco Allora mezzanotte e zero zero siamo arrivati a destinazione c'era Omar che ci aspettava infatti guardate vi faccio vedere stiamo seguendolo perché ci sta portando al Riyadh di Appoggio per poi andare dritti al campo delle tende in pieno deserto siamo arrivati siamo nella tenda allora stiamo parlando piano perché chiaramente ci sono altre tende vicino a noi con altre persone che stanno addormento però volevo dirvi una cosa io immaginavo una tenda sapete come quella del campeggio magari un po' diversa a un certo punto entriamo dalla porta e vediamo questo ragazzi è un salotto ecco qua questo qua andiamo a vedere il bagno andiamo andiamo mostraci il bagno patto qui c'è il bagno privato e la doccia la doccia e l'avantino eccolo qua che carino ma siamo in una tenda aspetta siamo in una tenda del deserto del Sahara ma domani mattina buonanotte andiamo a vedere le stelle adesso ciao ragazzi buonanotte buonanotte mi buonanotte Grazie a tutti